eccoci 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 come state ben ritrovati un abbraccio vi ricordo come sempre di commentare numerosi lasciate un bel like chi non lascia like in questo momento ti fa la seconda squadra di milano e iscrivetevi da questa parte iscrivetevi anche mio canale personale qui sotto c'è il link e poi vi ricordo che il 3 maggio venerdì 3 maggio ore 19 30 vi aspetto al fil di seregno una pericena rosso nero con tanti ospiti rossoneri l'ingresso costerà 15 euro complessivo di consumazione e di apericena appunto una grande festa per i 100.000 iscritti poi due giorni dopo compirò anche gli anni quindi sarà magari un momento per festeggiare seppur in anticipo anche se non porta benissimo il mio compleanno cari amici vi aspetto per prenotare il vostro posto gratuitamente qui sotto c'è il numero di telefono mandate un messaggino organizzatevi vi aspetto e prenotate perché avremo un piano intero solo per noi però saremo tanti quindi vi aspetto grazie per chi ci sarà i fedelissimi mi raccomando ma non solo scrivetemi qui sotto se ci siete che intanto vedo chi ci sarà allora ragazzi in tanti hanno già prenotato che dire che dire in questa domenica di sole che dire che siamo secondo me nel momento migliore della stagione sì direi di sì siamo per la prima volta arrivati a 5 vittorie di fine in campionato 7 vittorie consecutive considerando anche l'europa league complice magari un calendario non così proibitivo in questo senso devo dire che ora ecco il gioco non dico che si fa duro però si fa molto vero ora tra roma 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 escludo il sassuolo che è abbordabile dobbiamo batterli domenica prossimo ore 15 roma roma e poi inter juventus capiremo secondo me se abbiamo trovato la nostra dimensione ideale o se è stato soltanto un momento illusorio capiremo se torneremo a essere squadra vulnerabile o se il periodo positivo continuerà allora questo può far ben sperare anche in chiave futura pioli ieri ha detto per la prima parte di stagione avevamo una fase difensiva da metà classifica ecco noi lo dicevamo da un po prendendoci anche tante critiche lo ha messo anche oggi pioli devo dire che però la fase difensiva di oggi non è ancora da vertice non è da vertice perché abbiamo fatto qualche clean sheet ma abbiamo preso anche partite da gol i rischi ci sono sempre per questo sono anch'io curioso di capire affronti la roma affronti l'inter ecco devi avere un atteggiamento ancora più accorto per quanto mi riguarda ancora più di equilibrio poi quella in casa con il lecce ci sta di fare questo esperimento tra azione anteriore l'idea del quindi rischio qualcosa dietro ma davanti vado a dominare così è stato il piano gara ha pagato ma non può essere riproposto ad esempio contro l'inter neanche con la roma stessa o la juventus però bene così è il momento migliore il peccato di aver lasciato tanti punti per strada altrimenti questo momento migliore lo sfrutteremo per provare a arrivare allo scudetto ma oggi non è più possibile purtroppo vediamo di sfruttarlo in chiave europa league perché l'appetito vi è mangiando all'inizio era una competizione magari provava non è che ci entusiasmasse poi però beh però dai vediamo e adesso bisogna provare a arrivare fino in fondo e perché no vincerla anche se c'è un liverpool stratosferico detto questo ho analizzato meglio l'esposto sull'inter rispetto al video di questa mattina e devo dire una cosa dobbiamo dire una cosa prima però ecco vorrei passare dalle parti di christian pulisic christian pulisic signori e signori signore e signori e ha avuto subito un impatto devo dire molto positivo ecco io pensavo fosse un ottimo giocatore ma non un giocatore straordinario non pensavo che però era stato comprato come qualcuno tanti dall'altra parte sostenevano che fosse stato comprato per vendere le magliette negli stati uniti questo non ho mai pensato pensavo fosse un ottimo giocatore ma non straordinario con il passare delle settimane ecco l'ottimo è diventato straordinario e oggi abuso di questo aggettivo ma lo faccio anche in maniera che vuole essere simpatica da mio marchio di fabbrica un giocatore clamoroso 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 pulisic faccio fatica a trovare la rima magari se ce l'avete consigliatemela è davvero un top player per me indiscutibile al milan con una costante di rendimento una costanza di rendimento che gli altri top player del milano non hanno non ce l'ha quest'anno megnan non ce l'ha teo in generale non ce l'ha assolutamente leao ragazzi difficilmente ho visto prestazioni deludenti di pulisic anche magari quando il milan andava male lui ci provava sempre ha avuto un periodo magari di appannamento leggero ma era comunque sempre tra i migliori davvero in questa in questo rendimento costante è unico al milan e poi arrivi oggi 7 aprile quindi ancora un mese e mezzo per migliorare questi numeri e sono numeri fantastici in serie a da esterno 10 gol e 6 assist ha fatto da esterno gli stessi gol di turam ok turam che ha preso un sacco di prime pagine ve lo ricordate adesso non segna da un po ha preso un sacco di prime pagine acquisto clamoroso fantastico micidiale è una punta incredibile e sicuramente ha fatto bene turam anche se da un periodo non sta facendo bene però turam fa l'attaccante pulisic fa l'esterno i 10 gol d'esterno hanno un peso specifico superiore rispetto ai 10 gol di turam che ha fatto di fatto la seconda punta però prime paginone su pulisic io non le ho mai non le ho mai viste forse una due non lo so però articoli su pulisic io non è che ne ricordi così tanti su turam tantissimi su pulisic poca roba poi se andiamo a vedere in europa league ha fatto due gole un assist in champions ha fatto un gol il bilancio da esterno 41 partite 13 gole 8 assist 41 partite quindi c'è toccando no c'è ferro è di ferro la è di ferro il microfono toccavo questo toccando ferro è un giocatore che quindi a differenza dell'inaffedibilità a livello atletico degli anni scorsi quest'anno quasi sempre c'è stato non ha avuto problemi 13 gole 8 assist ha partecipato a 21 reti una rete ogni 224 minuti significa che ogni due partite e neanche mezzo lui fa gol da esterno e se non fa gol ripeto 8 assist sono numeri molto importanti e poi appena arrivato comunque magari il prossimo anno fa ancora meglio lo metti a destra lo metti in mezzo il suo ruolo preferito a sinistra a 25 anni qualche piccolo step di consapevolezza di maturità secondo me lo può ancora fare è un giocatore che aiuta anche la fase difensiva si pensava ricordo lo scorso anno quando avevamo parlato di pulisic figurati se arriva un ingaggio pesante poi ma non puoi giocare perché non ti aiuta dietro non dà equilibrio poi si fa sempre male tutti punti non dico luoghi comuni perché erano era così che sono stati superati da un giocatore che ha un'intelligenza superiore anche a chi ha intelligenza superiore io davvero stravedo per pulisic e lo consideravo un ottimo giocatore non pensavo potesse essere un giocatore così straordinariamente efficace continuo decisivo e determinante mamma mia mamma mia e grazie a pulisic il milan quest'anno è diventato superando un limite grosso della scorsa stagione è diventato qualcosa di diverso non è più un milan layout dipendente grazie soprattutto pulisic e forse magari anche a ciuquezze a breve quindi davvero notevole operazione straordinaria ragazzi io lo dico apriamo un'indagine sul milan aprite un'altra inchiesta sul milan perché aver preso per 20 milioni pulisic è un furto con scasso non va bene c'è qualcosa sotto aprite subito un'inchiesta sul milan perché l'operazione pulisic è strana prendere un giocatore genera 20 milioni c'è qualcosa sotto è una truffa ragazzi mamma mia che operazione abbiamo fatto se riuscissimo a fare un'operazione del genere anche come numero 9 mamma mia ma ma non solo il centrocampista e il difensore quali sono cose il terzino sono cose importanti non è soltanto il numero 9 ma nel frattempo davvero mi sa che mi prendo la maglietta di pulisic ragazzi mi sa che me la prendo non l'ho sottovalutato forse un po sì ma tutti dai non ce n'è uno ditemi la verità uno lì dietro che pensava che pulisic poteva essere così decisivo sinceri importante sì ma così secondo me nessuno sinceri leggerò vostri commenti se qualcuno poi mi dice no io sapevo che era così mi fido però sinceri dopodiché ragazzi ripeto apriamo un'inchiesta su pulisic a proposito di inchiesta disposto sull'inter me lo sono studiato un po' meglio devo dire perché ieri poi ero in diretta ho stato sei ore e mezza in diretta poi questa mattina presto ho letto distrattamente c'è un passaggio che è singolare perché tu quando produci passivi e hai debiti devi presentare ovviamente delle fideiussioni dei garanti no in questo caso per l'inter da garante attraverso una lettera di patronage è subentrato grand tower società in sede con sede in lussemburgo che rientra nella famiglia suning che però secondo i documenti in possesso di questa identità bianconera che è presentato l'esposto alla procura di roma di milano alla cofiso che è anche la procura della fgc questo grand tower non ha mai presentato un bilancio e questo suscita forti perplessità sulle effettive capacità dell'azienda di fornire le adeguate coperture finanziarie ad fc inter cioè l'inter che deve rimborsare 380 milioni entro il 20 maggio a octree deve avere le spalle quindi questo grand tower che deve avere però le capacità finanziarie per rimborsare e eventuali altri creditori altrimenti non potrebbe essere il garante e quindi l'inter non avrebbe potuto iscriversi senza questo requisito fondamentale loro dicono grand tower non ha fornito i bilanci e quindi la fgc perché non ha approfondito perché ha letto soltanto grand tower e non ha cercato di capire se grand tower poteva davvero essere in grado di sostenere l'impegno finanziario da garante questo è un aspetto importante da un lato ci chiediamo perché non è stato fatto un ulteriore approfondimento sarebbe grave se fosse così ma pare così dagli elementi in mano questa identità bianconera dall'altro allora saprebbe un caso clamoroso e dico perché però c'è questa indagine sul minan per capire se il passaggio di proprietà nel passaggio di proprietà hanno messo delle informazioni necessarie per capire l'onorabilità o la solidità finanziaria del gruppo qui mi sembra che ci sia un elemento ancora più contorto o sbaglio tra parentesi io ho fatto pubblicato il video e condividetelo sui vostri social ragazzi lo trovate nel home page di milanello del procuratore capo di milano marcello viola dietro a marotta a zanetti e ad antonello a vedere la partita dell'inter e anche sui vari social io dico secondo me per questioni di opportunità non è il massimo gli interisti che si imbufaliscono ma io non è che ho toccato l'inter come mai dall'altra parte ripeto mi sembra che qui di materia ce ne sia lo dico anche a chi ne guardate anche il contributo su chi ne in quel video e condividetelo sui vostri social vediamo a me sembrava una cosa un po più debole rivista nel dettaglio letta meglio parliamone parliamone perché qui sono obbligati a rispondere all'esposto sono obbligati a spiegare la solidità di grand tower è stata è stata approfondita se no sarebbe doppiamente grave perché l'inter non avrebbe avuto requisito per iscriversi al campionato e dall'altra parte la figici non avrebbe approfondito adeguatamente un aspetto fondamentale quindi vediamo aspettiamo e quello che accadrà ovviamente lo analizzeremo insieme su questo però non so se stasera domani mattina si esibirà sulle nostre frequenze un leonardo martinelli che vi preannuncio in forma di tirambica e quindi ragazzi rimanete sintonizzati condividete il video sui vostri social quello la ovviamente anche questo se vi va vi aspetto la festa di milanello il 3 maggio qui sotto c'è il whatsapp mandate il numerino prenotatevi già ma scrivetemi per chi c'è iscrivetevi da questa parte guardatevi di questa mattina iscrivetevi anche mio canale personale un abbraccio a tutti e vediamo cosa succede ciao ragazzi